Allora abbiamo un messaggio per la Sonia. Sonia non hai messo il numero, ti hai chiamato per nome. Come fanno a sapere come ti chiami? Appunto, come ti chiami? Ora, o io o tu? Io ovviamente. Allora, chi si permette di mandare un messaggio a me chiamandomi solo Sonia? Io sono Sonia, la fattucchiera. Allora un attimo, il muratore non ha capito niente. Fattucchiera non è che fa tutto, ti fa le fatture. Ma che dico? Le pago le tasse. Le tasse. Ma pagate le tasse. Le tasse. Perdonate, non è un muratore. E io pago le tasse. E lei mi fa la fattura. Ascolta, ma tu sto all'ideale, come lo vuoi? Sempre con i baffi. Un uomo con i baffi. Ma quelli possono crescere anche al muratore. Non si li taglia per tre giorni? Guarda quanto pelo che ha. Se avesse soldi come il pelo, eh. Cosa fai nella vita tu? La fattucchiera e basta? A rende a fare la fattucchiera, insomma. Molto voglio. A fare le fatture. E si possono anche togliere le fatture, no? No, no, no. E' fermato.